Prima di annunciare il secondo concorrente, desidero ricordare che l'Associazione L'Indice, per festeggiare il trentesimo concorso, ha prodotto una cartolina con annullo speciale di interesse filaterico, acquistabile alla cassa. Inoltre, nel foyer dell'auditorium, in occasione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, è stata allestita una mostra di spartiti dal carattere patriottico, tratti dai fondi musicali della biblioteca Pizarro. Il secondo concorrente di oggi è Reyes Logunova Alfredo, anni 20, nazionalità messicana, cittadinanza messicana. Eseguirà nell'ordine di Johan Sebastian Bach, ciaccona dalla seconda partita in minore. Di Wolfgang Amadeus Mozart, concerto della maggiore, KV 219, primo movimento e cadenza di Johan. Di Rodolfo Lipitzer, dallo studio numero 18, variazioni allegro, comodo e allegro sostenuto dalla tecnica superiore del violino. Buon ascolto. Pianista Svetlana Logunova 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.